I risvolti sono duplici, uno riguarda la riconferma degli investimenti e dei passavanti sulla riconversione green quindi gli appalti per la fornitura e la strumentazione saranno chiusi a maggio la gara per la fornitura dello steam reforming sarà chiusa anch'essa a maggio e l'avvio delle procedure alla modifica sostanziale dell'AIA già ad aprile e ne sarà in grado di presentarle a queste si aggiungono tutta una serie di attività riguardanti il risanamento ambientale che vedono in questo momento assorbire circa 400 persone quindi tra precantiere della raffineria green e cantiere di bonifica altri ne verranno autorizzati a breve, credo che già a maggio ci sarà una convenza dei servizi alla regione per chiudere il procedimento sull'ISAF quindi con l'avvio di uno dei più grandi cantieri di bonifica attesi da decenni a questo si aggiungono positivamente tutta una serie di iniziative che Eni ha presentato di cui si era già discusso in passato, guarda ad esempio le tecnologie per produrre bioolio da rifiuti umidi le tecnologie di bonifica con bio remediation e fito remediation in area SIN l'attività per lo sviluppo di una stazione di gennello sul Mediterraneo sono tutte attività che verranno chiusi credo in un paese di settimane con accordi dedicati tra amministrazione comunale, regione, Eni ed eventuali altri enti competenti alcune perplessità invece sono state mosse riguardanti la parte afferente al grosso degli investimenti relativi all'upstream, si vede un po' di incertezza legato a questa farraggiosità delle procedure che vedono ad esempio attendere adesso giorno 9 giugno una sendenza di Stato per dirimere la questione piattaforma sì, piattaforma no